Vogliamo dedicare uno spazio questa mattina a questo mezzo di cui siamo particolarmente affascinati e che insomma è nelle nostre vite, nelle vite di moltissimi di noi, di milioni di italiani da tanti anni ed è la radio, la radio, la radiovisione ma la radio intesa come tante cose perché è sicuramente mezzo di informazione ma è intrattenimento, è un luogo di confronto, è per molti anche un punto di riferimento Enrico e quindi proprio questo mezzo alla sua declinazione televisiva ha dedicato in questi giorni un'intera indagine, il Censis. Eh sì e noi vogliamo dare il buongiorno perché questa indagine verrà presentata tra poche ore alle 11 ma abbiamo la fortuna di avere un'anteprima qui su RTL 125, il dottor Massimiliano Valeri direttore generale del Censis è nostro ospite, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno grazie. Beh magari partiamo proprio dalla radio mezzo che in questa pandemia di fatto non si è fatto sorprendere ma non solo, è stato di supporto e di aiuto a molti no direttore? Sì, il caso della radio è veramente straordinario perché se ci pensate è il mezzo di comunicazione di massa più antico che possediamo. Se pensiamo alle prime trasmissioni radiofoniche risalgono al 1924 quindi quasi un secolo fa veramente ma ha mostrato nel corso del tempo una straordinaria capacità di rigenerarsi e di sintonizzarsi mi viene da dire così sugli stili di vita degli italiani che nel frattempo sono molto cambiati. Intanto è stato protagonista della rivoluzione digitale perché con l'avvento di dispositivi digitali la programmazione radiofonica è stata capace di fluire di fatto su ogni vettore. Noi possiamo ascoltare la radio dal tradizionale apparecchio in casa, apparecchio domestico, l'ascoltiamo attraverso l'autoradio ma ormai possiamo ascoltare i programmazioni radiofoniche attraverso gli smartphone. E soprattutto l'evoluzione nuova di cui parliamo oggi, la capacità di cambiare ancora pelle, cioè di ibridarsi, di fondersi anche con gli altri mezzi a cominciare dagli schermi e lo schermo per antonomasia, il televisore. Oggi possiamo parlare di radiovisione intendendo con questo termine, lo dico un po' in maniera tecnica, la possibilità del simulcast crossmediale. Che cosa significa in termini semplici? Che lo stesso contenuto può essere fruito dagli utenti attraverso qualsiasi piattaforma, attraverso qualsiasi dispositivo, in ogni luogo, in qualsiasi momento, quindi attraverso il televisore, attraverso lo smartphone, attraverso lo schermo del pc. E questa è una capacità straordinaria appunto della radio di arrivare agli utenti e grazie a questo ha mantenuto il suo appeal. Oggi noi sappiamo che sono 41 milioni gli italiani che seguono la radio, di questi 19 milioni, quindi una cifra enorme, lo fa attraverso uno schermo, televisore, smartphone oppure pc. E in particolare sono quasi 11 milioni che appunto fruiscono del messaggio radiofonico che si unisce anche al linguaggio visuale attraverso lo schermo della televisione. E questo è un cambiamento veramente significativo. Non c'è dubbio, lo diceva lei, la radio è il mezzo che maggiormente va incontro alla modernità. Parliamo anche di questo periodo, il periodo naturalmente della pandemia, che non ha fermato la radio, perché sempre in questi dati che voi andrete a presentare oggi ci sono dei segni più sulla radiovisione e sulla radio in generale. Ci aiuta? Allora, quest'anno, diciamo così, della paura nera, il 2020 che si sta protraendo ancora in questo inizio 2021, naturalmente c'è stata una domanda di informazione, ma anche di contenuti di intrattenimento, da parte degli italiani che è cresciuta in maniera molto significativa. E molti hanno cercato proprio nella radio le informazioni su quello che stava avvenendo, sulla diffusione del contagio, sulle regole da rispettare per il contenimento dell'epidemia. Se c'è stata una leggera flessione dell'ascolto dei programmi attraverso l'autoradio, ma questo è riferibile naturalmente alle restrizioni che abbiamo subito, quindi alle limitazioni della mobilità, il traffico automobilistico è diminuito, questo è un dato di fatto, c'è stato invece un forte incremento in particolare dell'audience televisiva dei programmi radiofonici, è cresciuta dell'8%, quindi una quota veramente significativa su base annua. Questo perché, un po' per la forzata reclusione casalinga che molti di noi hanno dovuto accettare, chi di buon grado, chi con qualche insofferenza, è un po' perché non possiamo non sottolineare il fatto che il linguaggio tradizionale della radio diventa ancora più forte ed efficace quando si fonde anche con il linguaggio visivo. Non a caso, dalla nostra indagine, risulta che un'alta percentuale degli utenti ne sottolineano proprio questo aspetto, cioè la capacità non soltanto di fare innovazione, che è sempre una cosa che colpisce soprattutto certi segmenti della popolazione, ma proprio per la capacità di essere efficace nel diffondere i messaggi. Questa capacità del messaggio radiofonico oggi di fluire su ogni dispositivo, dallo smartphone, dicevo, al pc, allo schermo del televisore, oltre agli apparecchi tradizionali, ma soprattutto anche la possibilità che noi abbiamo di farci il nostro palinsesto su misura, che sia appunto ascoltare la radio mentre si è in automobile, oppure che sia guardare la radio mentre si è in palestra o quando si potrà tornare nelle palestre, insomma è un muoversi pelle a pelle con la complessità degli stili di vita degli italiani, non siamo più quella società semplice del passato, ricordavo la prima trasmissione addirittura del 1924, siamo una società molto più complessa, con degli stili di vita molto articolati e la radio è stata capace di fare questo, andare incontro alle esigenze e ai desideri. E vari stili di vita, nuovi anche, grazie alla crossmedialità come diceva poco fa. Ecco, diamo un piccolo sguardo, direttore, in avanti. Sicuramente boom, un più 8% per le radiovisioni, per la radiovisione. Possiamo provare a capire se questo boom avrà un seguito post-pandemico, no? Vediamo se riusciamo a fare anche questo quadro. Questa è la domanda più importante, nel senso cosa resterà dopo questo stato d'eccezione, quando finalmente ci saremo lasciati alle spalle l'emergenza sanitaria. Allora, in questo ultimo anno noi abbiamo vissuto di fatto un colossale esperimento di massa, no? C'è stato uno switch al digitale anche di quelle persone tradizionalmente più riottose, più resistenti. Abbiamo usato gli strumenti digitali per lavorare in smart working, per continuare a fare formazione con la didattica a distanza, per rimanere collegati con parenti, amici, colleghi attraverso le chat, le videochiamate. Ora, di questo colossale cambiamento la domanda è cosa rimarrà, al di là della lettura congiunturale, cosa rimarrà in termini strutturali, permanenti? Questa è la domanda più difficile a cui dare una risposta, ma non c'è dubbio che, tornando al nostro tema, ad esempio della radiovisione, non c'è dubbio che avendo sperimentato molti di noi l'efficacia e la facilità di utilizzo di un mezzo come la radio in tutte le sue forme, insomma da questo punto di vista è difficile che si tornerà indietro. Quindi quello che si prospetterà per il futuro è un rafforzamento, poi in fondo della capacità di ogni singolo soggetto, di ogni singolo utente, di fare individualmente il proprio mix nella propria dieta mediatica. Quindi si ascolterà la radio, ancora si tornerà a recuperare quote di utenza dalla radio tradizionale in automobile, perché ritorneremo a spostarsi e a viaggiare in modo normale come facevamo prima, quindi si recupereranno quote di utenza dall'autoradio, ma oggi abbiamo scoperto però anche tutti i vantaggi che il gioco forza, l'epidemia ci ha portato a conoscere. Ad esempio anche quello di poter guardare le trasmissioni radio attraverso il televisore o il piccolo schermo dello smartphone. C'è un futuro estremamente eroseo all'orizzonte, ci sembra di capire, per la radio che gode di ottima salute ed è in continua crescita, però mi permetta di aggiungere una cosa, poi davvero ci salutiamo, bisogna che questi dati che voi del Censis andrete a presentare oggi qualcuno li ascolti, perché insomma la radio non ha bisogno di un riposizionamento, ma ha bisogno di un definitivo posizionamento che fino adesso non c'è stato. Grazie davvero di cuore al dottor Massimiliano Valeri, come detto direttore generale del Censis, per questi dati sulla radio e sulla radiovisione. Buon lavoro. Grazie a voi.